Ha provocato solo danni alle porte esterne lo scoppio di tre ordigni davanti alla sede di Equitalia al corso meridionale a Napoli. Le deflagrazioni che sono avvenute quasi in contemporanea hanno rotto i vetri e hanno causato danni alle saracinesche. Nel momento dello scoppio fortunatamente non c'erano passanti nelle immediate vicinanze. Sul posto è intervenuta alla polizia scientifica che ha effettuato i rilievi tecnici. La sede di Equitalia è al pian terreno di un edificio che si trova di fronte a una grande sede di poste italiane a pochissima distanza dalla stazione centrale delle ferrovie dello Stato. Lo scoppio è avvenuto davanti a tre porte chiuse da saracinesche a maglie larghe e da vetrate interne situate lungo via Padova proprio all'angolo con il corso meridionale dove c'è l'ingresso degli uffici. Gli ordigni, secondo quanto emerso dai primi rilievi della polizia, sono stati collocati nell'intercapedine tra le saracinesche e le vetrate. Poco più di un mese fa, nello stesso punto, fu fatto esplodere un potentissimo petardo che non provocò danni di rilevo alle strutture. Intanto resteranno chiusi oggi a Napoli gli uffici di Equitalia e gli operai sono già al lavoro per riparare i danni. Equitalia renderà noto in giornata se domani sarà possibile riprendere l'attività negli uffici del corso meridionale che servono all'utenza dell'area orientale della città.